la saggezza di padre brown capitolo 8 la maledizione di pendragon padre brown non aveva nessuna voglia di lanciarsi in nuove avventure ultimamente si era ammalato per il troppo lavoro e non appena aveva cominciato a riprendersi il suo amico flambeau l'aveva portato con sé in crociera su un piccolo yacht di sir cecil fan show un giovane proprietario terriero della cornovaglia entusiasta per il paesaggio riverasco della sua terra padre brown che si sentiva ancora piuttosto debole non si sentiva un marinaio molto felice e sebbene non fosse uno che brontola o che fa pesare i propri problemi il suo morale non si elevò mai al di sopra di un semplice livello di tolleranza e di cortesia quando gli altri due uomini lodavano il frastagliato tramonto viola o le frastagliate guglie vulcaniche si dimostrò d'accordo con loro quando flambeau indicò una pietra plasmata come se fosse un drago anche lui pensò che assomigliava un drago quando fan show emozionatissimo indicò una pietra che gli ricordava il mago merlino lui la guardò e gli diede il suo assenso quando flambeau chiese se quella porta rocciosa del fiume non fosse per caso il cancello del regno delle fate lui disse sì ascoltò le cose più importanti e quelle più banali con la stessa assorta indifferenza sentì che la costa era un pericolo mortale per tutti ma non per i marinai accorti e sentì anche che il gatto di bordo si era addormentato sentì che fan show non riusciva a trovare da nessuna parte il suo bocchino per le sigarette e sentì anche il pilota declamare l'oracolo se entrambi gli occhi brillano tutto va benone se uno si chiude in giù si affonda sentì flambeau dire a fan show che senza dubbio questa filastrocca voleva dire che il pilota deve tenere gli occhi sempre bene aperti e vigili e sentì fan show dire a flambeau che abbastanza stranamente non significava questo voleva dire invece che finché vedevano tutte e due le luci costiere una vicina e l'altra distante esattamente fianco a fianco si trovavano nel braccio giusto del fiume ma che se una delle due luci fosse apparsa nascosta dietro l'altra stavano andando direttamente sugli scogli sentì fan show aggiungere che il suo paese era pieno di favole così caratteristiche di idiomi anzi che la cornovaglia era la patria stessa del romanzo si spinse addirittura a contrapporre questa parte della cornovaglia al devonshire come territorio pretendente alla corona dall'oro dell'arte marinaresca elisabettiana secondo lui c'erano stati numerosi capitani nati fra queste piccole baie e isolette al cui paragone se francis drake era praticamente un terricolo sentì le risate di flambeau mentre chiedeva se il titolo avventuroso di a occidente intendesse dire semplicemente che tutti gli uomini del devonshire desideravano andare a vivere in cornovaglia sentì fan show rispondegli che non c'era nessun bisogno di essere così sciocco perché non solo i capitani della cornovaglia erano stati eroi ma che lo erano ancora nelle vicinanze infatti viveva un vecchio ammiraglio ora in pensione la cui vita era stata segnata da entusiasmanti viaggi pieni di avventure e che nella sua gioventù aveva scoperto l'ultimo gruppo di otto isole dell'oceano pacifico che erano state aggiunte alla carta geografica del mondo se si il fan show era il tipo di persone incline a questo genere di ingenui ma simpaticissimi entusiasmi era molto giovane aveva i capelli chiari il colorito intenso il profilo aquilino con la tipica spavalderia della gioventù ma con lineamenti quasi fanciulleschi che contrastavano con le grandi spalle le sopracciglia nere e la spavalderia da moschettiere con la quale si paureggiava flambò padre brown ascoltò e vide tutte queste banalità ma le ascoltò come un uomo stanco ascolte il rumore del treno sulle rotaie e le vide come un uomo ammalato vede dal suo letto la carta da parati sulla parete di fronte a sé nessuno può prevedere gli sbalzi d'umore durante la convalescenza ma la depressione di padre brown doveva avere molto a che fare con la sua scarsa familiarità col mare perché non appena la foce del fiume si restrinse come il collo di una bottiglia l'acqua divenne più calma e l'area più calda e più terricola lui sembrò svegliarsi e prendere coscienza come un bambino erano arrivati alla foce subito dopo il tramonto nell'ora durante la quale l'aria e l'acqua sembrano più brillanti ma la terra e tutta la vegetazione che vi cresce sopra sembrano in confronto quasi nere in quella particolare sera c'era qualcosa di insolito si avvertiva una di quelle rare atmosfere nelle quali sembra che tra noi e la natura si è scivolata via un pannello di vetro affumicato così che perfino i colori scuri in quel giorno sembravano più splendenti dei colori brillanti dei giorni più nuvolosi la terra calpestata lungo le rive del fiume la macchia torbosa negli stagni non sembravano giastri ma di un brillante color marrone scuro e i boschi scuri mossi dalla brezza non apparivano come di solito di un blu fioco per la profondità o la distanza ma più simile a masse vivace di fiori color violetto scompigliate dal vento quella chiarezza magica e l'intensità nei colori costrinse a maggior ragione padre brown a rianimare lentamente i suoi sensi che avvertirono qualcosa di romantico e di segreto nel disegno stesso del panorama il fiume era ancora molto ampio e abbastanza profondo per una barca da di porto piccola come la loro ma le curve della campagna suggerivano che si stavano chiudendo su entrambi i lati i boschi sembravano stessero facendo dei tentativi nell'aria per con la costruzione di un ponte come se la barca stesse passando dal fascino di una valle al fascino di una cavità e infine al fascino supremo di un tunnel oltre a questa mera parvenza delle cose naturali c'era poco altro con cui padre brown potesse alimentare la sua fantasia che lentamente si stava rinvigorendo non vide esseri umani salvo qualche zingaro che arrancava lungo la riva del fiume con fascine e vimi intagliati nella foresta e un'apparizione ormai consueta e più ma non ancora in quelle parti così remote una donna dai capelli scuri che pagagliava capo scoperto nella canoa se padre brown avesse dato qualche importanza l'uno all'altra certamente li dimenticò alla successivanza del fiume quando gli si presentò alla vista un oggetto alquanto singolare l'acqua sembra allargarsi e dividersi sparita dal cuneo scuro di un'isoletta boscosa a forma di pesce con la velocità con la quale stavano navigando l'isoletta sembrava andare verso di loro come una nave una nave con una prora molto alta o per essere più precisi con un fumaiolo molto alto questo perché sull'estremità più vicina a loro si elevava a un bizzarro edificio diverso da qualsiasi cosa potessero ricordare o collegare non che fosse particolarmente alto ma lo era però in rapporto con la sua larghezza tanto da non poterlo definire altrimenti che una torre sembrava fosse costituita completamente di legno e in un modo diseguale ed eccentrico alcune delle assi e delle tavole erano di buona quercia stagionata altre dello stesso legno ma tagliate più di recente altre ancora erano di pino bianco e c'era poi una grande quantità dello stesso genere di legno dipinto però di nero con il catrame queste assi nere erano state messe storte o incrociate su ogni lato e davano un aspetto rattappezzato e abbastanza sconcertante all'intera costruzione c'erano anche una o due finestre che sembravano essere state colorate e impiombate secondo un vecchio più elaborato stile architettonico i viaggiatori guardarono questa costruzione con la stessa sensazione paradossale che sia quando qualcosa evoca qualcos'altro anche se siamo sicuri che sia qualcosa di molto ben diverso da quello che stiamo vedendo padre brown anche quando aveva delle perplessità aveva però l'intelligenza necessaria per analizzarle e si troppò quindi a riflettere sul fatto che quella stranezza sembrava consistere in una forma curiosa costruita con un materiale incongruo come se uno vedesse un cappello a cilindro fatto di latta o uno smoking fatto di tessuto scozzese era sicuro di aver già visto legnami di tinte diverse così sistemati in qualche luogo come quello ma mai in simili proporzioni architettoniche un attimo dopo gettando lo sguardo attraverso gli alberi scuri trovò tutto quello che voleva sapere e rise attraverso un'apertura del fogliame gli apparve per un momento una di quelle vecchie case di legno rivestite di assi nere che ancora si trovano qua e là in inghilterra ma che la maggior parte di voi vede riprodotta in qualche mostra intitolata vecchia ondra o l'inghilterra di shakespeare rimase in vista abbastanza perché il prete notasse che nonostante fosse piuttosto antiquata era una casa di campagna confortevole e ben tenuta con davanti delle aiuole fiorite non aveva niente del folle disegno pezzato della torre che sembrava fosse stata costruita con i suoi scarti che diavolo è chiese flambò che stava ancora fissando la torre gli occhi di fan show stavano splendendo e rispose trionfante ah immagino che non abbia mai visto un luogo così piacevole prima di questo ecco perché l'ho portata qui amico mio ora vedrà se esagero a proposito dei marinai della cornovaglia questo luogo appartiene al vecchio pendragon che noi chiamiamo l'ammiraglio sebbene lui si sia messo a riposo prima di raggiungere quel grado lo spirito di ralegg e di hawking appartengono alla memoria per la gente del devon ma sono invece ancora attuali per i pendragon se la regina elisabetta dovesse alzarsi dalla tomba e risalire questo fiume su una chiatta dorata verrebbe ricevuta dall'ammiraglio in una casa esattamente come quella in cui lei era abituata in ogni angolo e in telagliatura in ogni pannello sul muro o piatto sulla tavola e troverebbe un capitano inglese che parla ancora con fierezza di terre nuove da scoprire con piccole navi come se le fosse toccato di cenare con drake penso però che troverebbe in giardino una cosa bizzarra che non riuscirebbe senz'altro gradita al suo occhio rinascimentale gli fece notare padre brown quella architettura domestica elisabetiana è a suo modo affascinante ma è contrario alla sua stessa natura stilistica il fatto di spezzarla con delle torrette eppure rispose fan show quella è la parte più romantica ed elisabetiana dell'edificio fu costruita da pendragon nei lontani giorni delle guerre spagnole e sebbene sia stato necessario rappezzarla e persino ricostruirla per un'altra ragione è sempre stata rifatta nello stesso modo la storia racconta che fu la moglie del ser peter pendragon a farla costruire in questo luogo e di questa altezza perché dalla cima avrebbe così potuto vedere l'angolo dove le navi viravano per imboccare la foce del fiume infatti lei desiderava essere la prima a vedere la nave di suo marito ogni qual volta faceva ritorno a casa dai mari spagnoli e per quale altra ragione intende dire che sarebbe stata ricostruita chiese padre brown o c'è una strana storia anche a riguardo a questo disse allegramente il giovane proprietario terriero questa è davvero una terra di storie strane realtù era di queste parti come merlino e le fate prima di lui secondo la storia ser peter pendragon che io temo aveva anche alcune colpe dei pirati oltre alle virtù del marinaio stava portando in inghilterra tre gentiluomini spagnoli in onorevole prigionia con l'intenzione di scortarli alla corte della regina elisabetta ma poiché era un uomo di temperamento focoso e crudele venne a diverbio con uno di loro lo prese per la gola e lo buttò in mare non è ben chiaro se per errore o volontariamente un secondo spagnolo che era il fratello del primo snudò immediatamente la spada si avventò contro pendragon e dopo un corto ma furioso duello nel quale entrambi furono feriti tre volte pendragon immerse la sua lama nel corpo dell'altro e così anche il secondo spagnolo fu sistemato quando accadde questo la nave aveva già girato la foce del fiume si trovava quindi in acque poco profonde il terzo spagnolo scavato il parapetto della nave si gettò a nuoto verso la spiaggia e ben presto vi fu vicino abbastanza per emergere dall'acqua fino alla vita e girandosi di nuovo per affrontare la nave tenendo ambe le braccia rivolte al cielo come un profeta che invoca delle piaghe su una città malvagia gridò forte a pendragon con voce terribile e lacerante che nonostante tutto stava ancora vivendo che avrebbe continuato a vivere che sarebbe vissuto per sempre ma soprattutto che generazione dopo generazione la casata dei pendragon pur non vedendolo mai avrebbe comunque saputo da segnali inequivocabili che lui e la sua vendetta erano vivi detto questo si tuffò sotto le onde e affogò o nuotò così a lungo sott'acqua che nessun cappello della sua testa riapparve mai più in vista c'è di nuovo quella ragazza in canoa osservò flambeau saltando di palo in frasca visto che le belle e giovani donne lo distraevano sempre da qualunque argomento sembrerebbe sconcertata da quella strana torre nello stesso modo in cui lo eravamo noi in effetti la ragazza dai capellineri stava lasciando scivolare lentamente e silenziosamente la sua canoa oltre lo strano isolotto e stava guardando verso la bizzarra torre con intensa espressione di curiosità sul suo volto ovale e olivastro lasci stare le ragazze disse fan show spazientito c'è abbondanza di loro nel mondo ma di torri come quella dei pendragon non ce ne sono molte come potete facilmente immaginare una lunga serie di superstizione e di scandali hanno fatto seguito alla maledizione dello spagnolo e senza dubbio come capirete senz'altro ogni incidente accaduto a questa famiglia della cornovaglia è stato collegato ad essa dalla credulità campagnola ma è comunque assolutamente vero che questa torre è stata distrutta dal fuoco due o tre volte che la famiglia non può essere certo definita fortunata poiché più di due mi pare di ricordare tra i parenti più stretti dell'armiraglio sono periti in un naufragio uno addirittura per quanto ne sappia io nello stesso punto in cui ser peter gettò fuori bordo lo spagnolo che peccato esclamò con un sospiro flambocca se ne sta andando quant'è che il suo amico ammiraglio le ha raccontato questa storia di famiglia chiese padre brown mentre la ragazza in canoa si stava allontanando senza mostrare la minima intenzione di spostare il suo interesse dalla torre allo yacht che nel frattempo fan show stava facendo accostare dall'isola molti anni fa rispose fan show visto che non va per mare da molto tempo e questo è per lui come un lamento funebre credo che vi sia un patto di famiglia o qualcosa di simile bene eccoci arrivati al pontile andiamo a riva e facciamo visita al vecchio ragazzo lo seguirono sull'isola passarono proprio sotto la torre padre brown per il solo fatto di toccare la terraferma o per l'interesse verso qualcosa che aveva visto sull'altra riva del fiume che fissò con molta attenzione per alcuni secondi sembrò improvvisamente riacquisire la sua consueta vigoria imboccarono un viale alberato fiancheggiato da due recinti di legno grigiastro e sottile come quelli che spesso chiudono parchi o giardini sormontati da alberi scuri che si agitavano avanti e indietro come pennacchi neri e viola sul carro funebre di un gigante la torre man mano che se la lasciavano alle spalle sembrava sempre più strana anche perché di solito i due lati di questi ingressi sono affiancati da due torri e quindi questa a causa di questa simmetria pareva quasi sbilanciata ma a parte questo il viale aveva il consueto aspetto dell'ingresso ai terreni di un gentiluomo di rango anche se curvando all'improvviso la casa di lì era fuori dalla vista e in qualche modo chi guardava il parco pensava che fosse più grande di quanto potesse essere in realtà viste le dimensioni di quell'isolotto padre brown forse a causa del suo affaticamento era un po incline a fantasticare per questo pensò che il luogo intero stesse diventando sempre più grande come accade a volte negli incubi comunque una mistica monotonia fu l'unica caratteristica della loro marcia finché fan show si fermò improvvisamente e indicò qualcosa che sporgeva dallo steccato grigio qualcosa che da prima sembrò loro il corno imprigionato di qualche bestia ma che ha un'osservazione più attenta da vicino si dimostrò essere una lama levemente curva di metallo che brillava debolmente nella luce morente flambò che come tutti i francesi era stato un soldato si chinò a guardarla ed esclamò con voce spaventata diamine una sciabola e credo anche di riconoscerne il modello pesante incurvata ma più corta rispetto a quella che usano in cavalleria veniva usata in artiglieria e il non appena pronunciò queste parole la lama si liberò dalla fessura della siepe in cui era incastrata e calò di nuovo con un fendente più poderoso spezzando con un rumore lacerante lo steccato che divideva il recinto di piante rampicanti fino alla base poi fu estratta di nuovo e balenò un metro sopra il recinto e di nuovo lo divise a metà con il primo colpo dopo essersi dimenata un po per districarsi con l'accompagnamento di una serie di maledizioni provenienti dall'oscurità lo divise fino a terra con un secondo fendente infine un calcio di diabolica energia spedi tutto il riquadro tagliato ad angolo retto di legno sottile sul sentiero e una grande apertura scura si aprì nello steccato fenscio sbirciò nell'apertura scura ed emise un'esclamazione sbalordita mio caro ammiraglio di solito di solito taglia sempre così una nuova porta quando vuole uscire per fare una passeggiata la voce nell'oscurità imprecò di nuovo e poi proruppo in un'allegra risata no rispose in realtà avevo bisogno di tagliare in qualche modo questo steccato perché mi sta rovinando tutte le piante e nessun altro qui può farlo permettetemi di tagliare solamente un altro pezzetto e poi uscirò a darvi il benvenuto detto questo sollevò nuovamente la sua arma e con due fendenti abbatté un altro pezzo di recinto creando un'apertura di circa 4 metri di larghezza poi attraverso questo più grande ingresso sulla foresta uscì alla luce della sera con un frammento di legno grigio ancora conficcato nella lama della spada per un attimo sembrò avvalorare tutta la favola di fenscio relativa a un vecchio ammiraglio in odore di pirateria sebbene in seguito i dettagli apparvero più casuali per esempio l'ammiraglio portava un cappello a larghe tese come protezione contro il sole ma la tesa anteriore era rivolta verso il cielo e i due angoli erano tirati giù fino alle orecchie così che il copricapo gli attraversava la fronte in una mezzaluna come il vecchio tricorno portato da nelson indossava una comune giacca blu scuro senza nulla di speciale nei bottoni ma la sua combinazione con i pantaloni di lino bianco in qualche modo gli dava un'aria marinaresca l'ammiraglio era alto si muoveva in maniera sciolta e camminava con una sorta di spavalderia che non rilevava l'andatura di un marinaio anche se in qualche modo la suggeriva infine a corollario di tutto teneva nella mano quella sciabola corta simile a una sciabola della marina militare anche se circa due volte più grande sotto il ponte del cappello lo sguardo aquilino pareva ancora più intenso in quanto non solo era completamente sbarbato ma anche senza sopracciglia sembrava che tutti i peli se ne fossero andati via dalla sua faccia nello sforzo di respingere il turbine di avvenimenti che lo assaliva aveva occhi sporgenti e penetranti e il colore della sua pelle era curiosamente attraente benché parzialmente tropicale e ricordava vagamente un'arancia sanguigna per essere più chiari al colorito rosso e sanguigno si aggiungeva una sfumatura di giallo che lungi da farlo apparire in qualche modo malaticcio sembrava piuttosto risplendere come le mele d'oro delle speridi padre brown pensò di non aver mai visto una figura che esprimesse meglio di lui tutte le fantasie descritte nei romanzi sui paesi del sole quando ebbe presentato i suoi amici al loro ospite fensho tornò di nuovo a prenderlo in giro scherzosamente per la distruzione della sepe e per la sua apparente ira profanatrice sulle prime l'ammiraglio sembrò prendere alla leggera queste parole minimizzando la cosa come se fosse un lavoro di giardinaggio necessario anche se noioso ma alla fine recuperando un po della sua energia esclamò con un misto di impazienza e di buon umore beh forse esagerò un po nell'arrabbiarmi e provo come una specie di piacere nel fracassare le cose penso che sareste così anche voi se il vostro unico piacere fosse quello di andarvi in crociera a scoprire nuove isole dei cannibali e invece dovesse restare con me inchiodati su questo piccolo isolotto di rocce e fango in mezzo a una specie di stagno campagnolo quando penso che ho tagliato due chilometri di giungla verde velenosa con un vecchio coltellaccio che tagliava la metà di questo e poi realizzo che devo restarmene qui a tagliare questi legnetti per fiammiferi il tutto perché un maledetto vecchio contratto è stato scarabocchiato su una bibbia di famiglia beh io alzo di nuovo la pesante sciabola d'acciaio e questa volta con un solo colpo divise a metà il muro di legno dall'alto in basso che devo dirvi sono fatto così disse ridendo scagliando però con rabbia la spada a qualche metro lungo il sentiero ma adesso saliamo in casa perché immagino dovrete ancora cenare il semicerchio del prato di fronte all'abitazione era interrotto da tre aiuole circolari una di tulipani rossi una seconda di tulipani gialli e una terza di certi fiori bianchi con un aspetto cereo che i visitatori non conoscevano e che ritenevano quindi essere esotici un giardiniere il sud e robusto dallo sguardo piuttosto imbronciato stava appendendo dopo aver avvolto su se stesso un pesante tubo di gomma usato per innaffiare il giardino gli ultimi raggi del sole al tramonto che sembravano aggrapparsi agli angoli della casa offrivano quella scorci di aiuole colorate più lontane in uno spazio senza alberi posto su un lato della casa che dava al sul fiume c'era appoggiato un altro treppiedi in ottone sul quale era inclinato un grande telescopio sempre in ottone poco più in là dei giardini del portico c'era un piccolo tavolo da giardino dipinto di verde preparato come se qualcuno avesse appena preso il tè l'ingresso era fiancheggiato da due di quelle pietre abbozzate con sembianze umane con due buchi al posto degli occhi e che si dice rappresentino idoli dei mari del sud sullo stipite posto sopra la porta di quercia marrone vi erano degli intagli confusi dall'aspetto vagamente barbarico mentre entravano il piccolo prete citato con un balzo improvviso saltò sul tavolo e stando in piedi su di esso come se nulla fosse si mise a osservare attraverso gli occhiali quegli strani segni incisi nella quercia l'ammiraglio pendragon sembrava alquanto stupito sebbene non particolarmente irritato mentre invece feng shou era così divertito per quella che sembrava l'esibizione di un pigmeo sul piccolo palco che non poté controllare le sue risate ma era improbabile che padre brown si fosse accorto della risata o dello stupore stava infatti fissando i tre simboli intagliati che sebbene fossero molto consumati oscuri sembravano trasmettergli anche qualche significato il primo poteva essere il contorno di una torre o di un qualche altro edificio incoronato con quelli che sembravano nastri dalle punte arricciate il secondo era più chiaro una vecchia galea lisabettiana con sotto alcune onde stilizzate interrotte nel mezzo da un curioso scoglio frastagliato dovuto a un difetto del legno alla rappresentazione convenzionale dell'acqua che entrava il terzo rappresentava la metà superiore di una figura umana e terminava con una linea di conchiglie che sembravano delle onde la faccia era rovinata in forme mentre entrambe le braccia erano erano levate molto rigidamente nell'aria beh mormorò ammiccante padre brown ecco espressa in modo chiaro la leggenda dello spagnolo qui lui sta nell'acqua a braccia alzate e lanciando la sua maledizione ed ecco qui le due maledizioni la nave distrutta e l'incendio della torre dei pendragon pendragon scosse la testa con una specie di rispettoso divertimento e quante altre cose potrebbe rappresentare chiese saprà anche lei che questa specie di mezzo uomo come anche il mezzo leone o il mezzo cervo maschio sono piuttosto comuni in araldica e quella linea che attraversa la nave non potrebbe essere una di quelle linee che dividono i quarti di uno stemma e sebbene la terza raffigurazione non sia poi così araldica non sarebbe più araldico immaginarla come una torre incoronata con una corona dall'oro piuttosto che avvolta dal fuoco e tale a me sembra essere mi sembra però piuttosto strano intervende flambò che queste immagini confermino esattamente la vecchia leggenda a replicò il viaggiatore scettico ma lei non sa quanto delle vecchie leggende sia potuto derivare dalle vecchie figure inoltre questa non è l'unica vecchia leggenda feng shu che è un appassionato di queste cose le dirà che esistono altre versioni della storia e molto più orribili di questa una versione racconta che il mio sfortunato antenato avesse tagliato in due lo spagnolo e questo accrediterebbe la bella scultura un'altra assai più gentilmente accredita alla nostra famiglia la proprietà di una torre piena di serpenti il che spiegherebbe quella linee ondulate una terza teoria immagina che la linea storta sulla nave possa essere un fulmine stilizzato tutte queste singole versioni se esaminate seriamente ci dimostrano quanto poco in verità ci raccontano queste infelici coincidenze perché che cosa vuole dire chiese feng shu perché si dà il caso rispose con freddezza l'ammiraglio che non ci fu messo tuono e nessun lampo nei due o tre naufragi di cui è stata vittima la nostra famiglia o esclamò padre brown e salto giù dal piccolo tavolo seguì qualche istante di silenzio durante il quale ascoltarono il mormorio continuo del fiume poi feng shu disse un po dubbioso e forse con un tono un po deluso le non pensa quindi che ci possa essere qualcosa di vero nella storia della torre in fiamme ci sono i racconti chiaramente disse l'ammiraglio stringendosi nelle spalle e alcuni di loro non lo nego si fondano su testimonianze attendibili per quanto possano esserlo testimonianze del genere qualcuno mentre tornava a casa attraverso il bosco vide qui vicino un bagliore e qualcuno che conduceva le pecore al pascolo sugli altopiani interni vide delle fiamme che volteggiavano sulla torre dei pendragon ebbene è impensabile che su uno schizzo umido di fango quale questo isolotto possano scoppiare degli incendi che cos'è quel fuoco là chiese a un tratto padre brown indicando i boschi sulla riva sinistra del fiume tutti rimasero un po scossi nel loro equilibrio emotivo specialmente fan show che dotato più degli altri di fantasia stentò a riprendersi allorché videro un lungo e sottile pennacchio di fumo azzurro che saliva silenziosamente nella luce della sera fu pendragon a rompere il silenzio con una nuova risata sdegnosa zinga rispiegò si sono accampati qui intorno da circa una settimana ma signori miei dobbiamo cenare e si volto per entrare in casa la vecchia superstizione stava però ancora vibrando in fan show che ansiosamente domandò ma ammiraglio che cos'è questo sibilo qui vicino all'isola sembrerebbe del fuoco sembra solamente quello che in realtà disse ridendo l'ammiraglio mentre faceva loro strada e cioè una canoa che sta passando sul fiume mentre pronunciava queste parole il maggior domo un uomo magro vestito di nero con capelli nerissimi una faccia molto lunga e giallastra apparve sulla soglia e annunciò che la cena era servita la sala da pranzo aveva l'aspetto di una cabina di una nave moderna e non rievocava certamente l'epoca eleseabettiana c'erano a dire la verità tre vecchi coltellacce appesi come trofei sul camino e una scura mappa cinquecentesca con tritoni e piccole navi che punteggiavano un mare in tempesta ma tutte queste reliquie spiccavano meno sui pannelli bianchi delle vetrine nelle quali erano disposti dei caratteristici uccelli colorati del sud america imbalsamati accuratamente in modo scientifico delle conchiglie del pacifico dalle forme più strane e numerosi strumenti così rozzi e singolari nella forma che i selvaggi potevano averli usati solo per uccidere il loro nemico o per cucinarli ma il folclore alieno non terminava qui poiché oltre al maggiordomo l'ammiraglio aveva solamente due servitori neri vestiti in modo caratteristico con attillate uniformi gialle la mania istintiva di padre brown che era quella di analizzare le sue prime impressioni feci sì che i colori e le piccole ed eleganti code delle livree di quei bipedi che gli suggerissero la parola canarino e così per un semplice gioco di parole li collegò all'isone canarie e a un viaggio nei mari del sud verso la fine della cena i servitori presero i loro vestiti gialli e le loro facce nere e se ne andarono lasciando nella stanza solamente il vestito nero e la faccia gialla del maggiordomo sono davvero desolato per il fatto che lei prenda la cosa così alla leggera sembrò lamentarsi fan show con il padrone di casa poiché per la verità le ho portato questi miei due amici con l'idea che potessero dare il loro aiuto visto che sono degli esperti in fatto di misteri quindi non crede davvero alla storia della sua famiglia non credo a nulla gli rispose pendragon bruscamente con lo sguardo irritato rivolto verso un uccello tropicale rosso io sono un uomo di scienza non senza sorpresa di flambò il suo amico prete che sembrava essersi completamente rimesso raccolse questa affermazione parla a lungo di storia naturale con il suo ospite mostrando di avere insospettate nozioni in questo campo fino a che furono levati dalla tavola il dolce e le caraffe e l'ultimo servitore se ne andò poi padre brown disse senza alterare il suo tono per favore non mi consideri un impertinente ammiraglio per dragon io non glielo chiedo per curiosità ma davvero per sapermi regolare a suo vantaggio ho sbagliato a pensare che lei non voleva parlare di queste vecchie storie di fronte al suo maggiordomo l'ammiraglio alzò le sopracciglia glabbre del calamò beh non so come l'abbia capito ma la verità è che non sopporto proprio di vedermi tra i piedi con l'individuo anche se purtroppo non riesco a trovare qualche scusa per licenziare un vecchio servitore di famiglia fan show con i suoi racconti fantastici direbbe che il mio sangue ribolle di fronte a uomini con quei lunghi capelli neri alla spagnola flambò colpì la tavola con il suo pugno pesante per giova esclamò le aveva così anche quella ragazza in canoa spero che tutto finisca stasera continuò l'ammiraglio quando mio nipote ritornerà sano e salvo con la sua nave mi sembrate sorpresi non potete capire immagino a meno che io non vi racconti tutta la storia vedete mio padre ebbe due figli io rimasi scapolo ma mio fratello maggiore si sposò ed ebbe un figlio che divenne un marinaio come tutti noi e che riditerà la proprietà di famiglia beh mio padre era un uomo piuttosto strano in qualche modo si combinavano in lui la superstizione di fan show con un bel po del mio scetticismo due sentimenti che lottano sempre di lui dopo i miei primi viaggi si sviluppò anche in qualche modo in lui l'intenzione di poter finalmente verificare se la maledizione fosse verità o immondizia e gli pensava comunque che se i pre in dragon si fossero messi in mare sarebbero state troppe le probabilità che succedessero delle catastrofe naturali inutili quindi per provare qualsiasi cosa ma se noi fossimo andati per mare uno alla volta rispettando l'ordine di successione sui diritti di proprietà penso che sarebbe stato possibile vedere se il fato perseguitasse la famiglia in quanto famiglia era una teoria sciocca certamente e io litighai con mio padre abbastanza vivacemente ero un uomo ambizioso e fui quindi lasciato per ultimo così per successione vengo addirittura dopo mio nipote e suo padre suo fratello lo interruppe padre brown con dolcezza temo siano morti in mare si borbotto l'ammiraglio in due di quei brutali incidenti sui quali sono costruite tutte le mitologie bugiarde dell'umanità naufragarono entrambi mio padre risalendo questa costa dell'atlantico fu sbattuto sulle rocce della cornovaglia la nave di mio fratello invece affondò nessuno ha mai saputo dove durante il viaggio di ritorno dalla tasmania e il suo corpo non venne mai trovato io sono convinto che furono delle disgrazie come ne capitano tante sul mare molte altre persone annegarono in quelle occasioni oltre ai pendragon ed entrambi i disastri sono ricordati dai navigatori come del tutto normali ma chiaramente questi fatti alimentarono il fuoco della foresta della superstizione e molti videro ovunque le torri fiammeggiare ecco perché ho detto che tutto andrà bene quando walter tornerà la ragazza con la quale è fidanzato doveva venire oggi ma temendo qualche ritardo le ho telegrafato di non venire fino a quando non l'avessi avvisata ma lui è praticamente sicuro di poter essere qui stasera per cui tutto finirà in fumo fumo di tabacco questa vecchia bugia verrà fatta fuori quando noi faremo fuori questa bottiglia di vino è un vino ottimo disse padre brown alzando cerimoniosamente il bicchiere ma come vede sono un pessimo bevitore e imploro sinceramente il suo perdono questo perché aveva lasciato cadere una piccola macchia di vino sulla tovaglia beve un altro goccio e posò il bicchiere con il viso calmo e rilassato ma la sua mano aveva tremato nel momento esatto in cui si era accorto di un volto che li spiava attraverso la finestra del giardino posta dietro all'ammiraglio il volto bruno di una donna con i capelli e gli occhi da spagnola giovane ma simile a una maschera della tragedia greca dopo una pausa il prete ricominciò a parlare con il suo solido tono ammiraglio disse potrebbe farmi un favore permette che con i miei amici sempre che loro siano d'accordo ci fermiamo solo per stanotte nella sua torre lei saprà che nella mia professione bisogna essere quasi prima di ogni altra cosa un esorcista pendragon balzò in piedi e si mise a camminare avanti indietro davanti alla finestra dalla quale era sparito il volto visto da padre brown vi ho già detto che sono tutte sciocchezze gridò con voci tonante vi posso solo dire una cosa su questa faccenda e voi potete anche darmi dell'ateo perché io sono ateo si girò poi di scatto e fissò padre brown con una terribile espressione questa faccenda è assolutamente naturale non esiste nessuna maledizione padre brown sorrise in questo caso disse sorgnone non dovrebbero esserci obiezioni sul fatto che non si possa dormire nella vostra deliziosa villa estiva è un'idea assolutamente ridicola replicò l'ammiraglio tamburellando nervosamente con le dita sulla schienale della sedia la prego di perdonarmi di tutto continuò padre brown anche della macchia di vino ma mi pare che riguardo alla torre di fuoco lei non sia così tranquillo come intende farci credere l'ammiraglio pendragon torna a sedersi con la stessa impetuosità con la quale si era alzato se ne rimase però tranquillo e quando riprese a parlare la sua voce era di un tono più bassa restate pure ma sarà vostro rischio e pericolo non è che diventerà anche lei un ateo così potrà mantenere la calma in tutta questa diavoleria circa tre ore dopo flambeau e fenshò stavano ancora bighellonando con padre brown al buio del giardino e stavano entrambi cominciando a pensare che il prete non avesse nessuna intenzione di andare a letto né tornare in casa ho l'impressione che il prato necessiti di una sarchiatura disse allegro se riuscisse a trovare una roncola una zappetta o qualcosa del genere lo farei io stesso gli altri due lo seguirono ridendo e protestando ma lui insistette con la massima solennità spiegando loro con un esesperante piccolo sermone che si poteva sempre trovare qualche piccola occupazione utile agli altri non gli riuscì di trovare una zappa ma recuperò una di quelle ramazze fatte di rametti con la quale cominciò a spazzare energicamente le foglie cadute sull'erba c'è sempre qualcosina da fare disse con una stupida allegria come dice george herbert chi ramazza il giardino di un ammiraglio in cornovaglia secondo le tue leggi fa qualcosa e combi una bella azione e ora giunse mentre gettava via improvvisamente la ramazza andiamo a annaffare i fiori con le stesse proteste divertite di prima lo guardarono mentre svolgeva una lunghezza considerevole del grande tubo di gomma per annaffiare il giardino dicendo quasi sovra pensiero i tulipani rossi prima dei gialli penso sono un po asciutti non vi pare girò il piccolo rubinetto e l'acqua schizzò fuori dritta e solida come una lunga verga d'acciaio attento sansone esclamò ridendo flambò mi ha appena tagliato la testa del tulipano padre brown rimase a contemplare addolorato la pianta decapitata il mio sembrerebbe essere un metodo del tipo uccidio salva ammise grattandosi la testa suppongo che sia un peccato che non abbia trovato la zappetta avreste dovuto vedermi con la zappetta a proposito di attrezzi ha sempre con lei flambò quel bastone animato che porta sempre quello va bene e sir sesil potrebbe prendere quella spada che l'ammiraglio ha gettato via accanto alla sepe a proposito non vi sembra che tutto sia così grigio è la nebbia che si sta alzando dal fiume disse flambò guardandosi attorno in quel momento la figura enorme del giardiniere villoso apparve sulla cresta più alta del prato solcato da canali e disposto a terrazze brandendo un randello e apostrofandoli con una voce orrenda metta giù quel tubo di gomma gridò metta giù subito quel tubo di gomma e vada al sono terribilmente maldestro rispose debolmente il reverendo gentiluomo sa ho anche rovesciato del vino a cena nello scusarsi fece un mezzo giro verso il giardiniere con il tubo di gomma che ancora zampillava acqua dalla sua mano il giardiniere si prese in viso il getto d'acqua fredda come l'urlo di una palla da cannone barcollando scivolò e andò a sedersi in modo scomposto con gli stivali per l'aria che cosa terribile disse padre brown mentre si guardava intorno come se cercasse qualcosa diamine ho colpito un uomo se ne rimase un attimo con il capo proteso in avanti come se stesse guardando ascoltando qualcosa poi si mise a trottare verso la torre ancora trascinando il tubo di gomma dietro di lui la torre era piuttosto vicina ma la sua sagoma era curiosamente annebbiata la sua nebbia di fiume disse a uno strano odore di rum per dio esclamò fan show che era impallidito ma lei non vorrà dire voglio dire gli rispose padre brown che una delle scientifiche predizioni dell'ammiraglio si sta avverando stanotte questa storia finirà in fumo mentre parlava una bella luce rossastra sembra sbocciare come una rosa gigantesca accompagnata da un crepitio e da un rumore simile a un battito come la risata di un demonio mio dio cos'è questo esclamò spaventato sir sesil fan show il segno della torre fiammeggiante disse padre brown e diresse il getto d'acqua proveniente dal suo tubo di gomma nel cuore della macchia rossa per fortuna non eravamo andati a letto esclamò fan show speriamo che il fuoco non si estenda la casa forse vi ricorderete disse il prete con calma che il recinto di legno che avrebbe potuto propagare il fuoco è stato tagliato flambò girò gli occhi elettrizzati verso il suo amico mentre fan show si limitò a osservare in tono piuttosto assente beh perlomeno nessuno resterà ucciso questo è decisamente uno strano tipo di torre osservò padre brown quando deve uccidere qualcuno uccide sempre persone che sono in qualche altro posto nello stesso istante la figura mostruosa del giardiniere con la barba fluente apparve di nuovo sulla cresta verde contro il cielo agitando le mani per far segno agli altri di avanzare ma in mano ora non sventolava un rastrello ma un coltellaccio dietro a lui venivano i due servitori neri anche loro armati con i vecchi coltellacci storti che avevano levato al trofeo appeso alla parete ma nello sfolgorio rosso sangue con le loro facce nere e i vestiti gialli sembravano diavoli che portavano degli strumenti di tortura nella parte posteriore dell'offuscato giardino si sentì dietro di loro una voce distante che dava brevi ordini quando il prete sentì quella voce ci fu un cambio terribile della sua espressione ma rimase composto e non distolse mai gli occhi dalla macchia di fuoco che aveva cominciato ad estendersi ma che ora sembrava si stesse ritirando restringersi con un sibilo sotto la sferzata del lungo getto d'acqua argentino padre brown teneva il dito sull'imboccatura del tubo per prendere meglio la mira e quindi non prestava attenzione a nient'altro ma si rendeva conto dal rumore e da qualche sbirciatina che dava ogni tanto che strani avvenimenti stavano accadendo nel giardino dell'isola diede due secchi ordini ai suoi amici uno era abbattete in qualche modo questi individui e legateli chiunque essi siano c'è della corda sotto queste fascine vogliono portarmi via il mio tubo di gomma l'altro era appena potete chiamate la ragazza della canoa è sulla riva con gli zingari chiedetele se possono trovare dei secchi e riempiteli con l'acqua del fiume poi si chiuse la bocca e continua ad annaffiare quel fiore rosso appena nato con la stessa spietata determinazione con la quale aveva annaffiato il tulipano rosso non giro mai la testa per guardare la strana lotta che stava avvenendo tra i nemici e gli amici del fuoco misterioso gli parve però che l'isola si scuotesse quando flambò atterrò l'enorme giardiniere e si immaginò soltanto come dovesse girare intorno a loro mentre lottavano sentì il grande tonfo e l'ansito di trionfo del suo amico mentre si gettava sul primo nero e si lamentava di entrambi i neri mentre flambò e fanchot li legavano l'enorme forza di flambò aveva già ristabilito la disparità di numeri nella lotta anche perché il quarto uomo ancora si aggirava intorno alla casa ed era solamente un'ombra e una voce sentì anche il rumore dell'acqua rotto dalle pagaie di una canoa e la voce della ragazza che dava ordini le voci degli zingari rispondere mentre si avvicinavano il tonfo dei secchi e il rumore che facevano quando venivano immersi nel fiume e alla fine lo scalpitio di molti piedi intorno al fuoco ma tutto questo era per lui meno importante del fatto che il fronte del fuoco che dapprima era aumentato ulteriormente ancora una volta stava diminuendo leggermente poi udì un urlo molto vicino che quasi gli fece girare la testa flambò e fanchot ora aiutati da alcuni zingari si erano precipitati sull'uomo misterioso che girava intorno alla casa e sentì dall'altro lato del giardino l'urlo di orrore di stupore del francese gli fece eco l'ululato disumano che fece l'uomo allorché liberatosi dalla loro presa si mise a correre lungo il giardino per ben tre volte fece il giro dell'intera isola in un modo così spaventoso che ricordò la caccia ad un pazzo sia per le grida dell'inseguito sia per le corde che portavano gli inseguitori ma era ancora più orribile perché in qualche modo suggeriva il gioco di bambini che si inseguivano su un prato poi trovandosi chiusa da ogni lato la figura salto da una delle rive più alte del fiume scomparve come un tonfo nelle acque buie e venne trascinato via dalla corrente temo che non possiate fare altro disse padre brown con voce addolorata ora è stato gettato contro gli scogli sui quali aveva spedito molti altri lui sapeva decisamente come usare una leggenda di famiglia o non se ne esca con queste parabole esclamò flambò con impazienza non potrebbe esprimersi con parole più semplici si rispose padre brown continuando a tenere d'occhio il tubo di gomma se entrambi gli occhi brillano tutto va bene se uno si chiude in giù si affonda il fuoco si bilava e strideva sempre di più come una bestia che si sentiva strangolata man mano che calava sotto l'inondazione proveniente dal tubo dei secchi ma padre brown non fidandosi non staccava mai l'occhio mentre continuava a parlare pensavo di chiedere a questa giovane signora se fosse già mattina e non fosse ancora buio di guardare con quel telescopio verso la foce del fiume e il fiume stesso è probabile che possa vedere qualcosa che la può interessare un segno della nave o walter pendragon che torna a casa forse persino il segno del mezzo uomo sebbene ormai sia certamente al sicuro perché potrebbe benissimo aver raggiunto a nuoto la riva è stato a un pelo da un altro naufragio e non se ne sarebbe mai sfuggito se la signorina non avesse avuto il buon senso di sospettare qualcosa dal telegramma del vecchio ammiraglio e non fosse venuta di persona a controllare non parliamo poi del vecchio ammiraglio non parliamo di qualsiasi cosa è sufficiente dire che ogni qual volta questa torre con la sua pece e il suo legno resinoso prendeva davvero fuoco il suo chiarore sembrava sempre all'orizzonte la luce gemella del faro sulla costa ed è così che morirono il padre e il fratello disse flambò il cattivo zio della leggenda per poco non è riuscito a entrare in possesso di tutta la proprietà padre brown non rispose anzi non parlo più se non per scambiare qualche altra parola di cortesia finché non furono tutti nuovamente in salvo intorno alla scatola dei sigari nella cabina dello yacht aveva visto che il fuoco era stato spento ma si rifiutò di trattenersi ulteriormente sebbene avesse sentito il giovane pendragon scortato da una folla entusiasta risalire con passo pesante la riva del fiume avrebbe potuto ricevere se fosse stato mosso dalle curiosità romantiche i ringraziamenti sia dell'uomo della nave che dalla ragazza della canoa ma la stanchezza gli era ancora una piambata addosso e si riscosse una sola volta quando flambo gli disse improvvisamente che aveva lasciato cadere la cenere del sigaro sui pantaloni questa non è la cenere del sigaro rispose piuttosto stancamente è quella del fuoco ma voi pensate di no perché state entrambi fumando il sigaro fu proprio così che vi il mio primo sospetto sulla carta marina intende dire che la carta marina di pendragon con le sue isole del pacifico chiese fan show siete voi che avete pensato che fosse la mappa delle isole del pacifico rispose padre brown mettete vicini una penna un fossile e un po di corallo e chiunque penserà che sia la piuma di un uccello raro mettete invece la stessa penna con un nastro e un fiore artificiale e ognuno penserà che è per il cappello di una signora mettete sempre la stessa penna vicino a una bottiglia di inchiostro a un libro e una pila di carta da scrivere e la maggior parte delle persone giurerà di aver visto una penna d'oca quando voi avete visto la mappa fra uccelli tropicali e conchiglie avete pensato che quella fosse una mappa delle isole del pacifico era invece la mappa di questo fiume ma come ha fatto a capirlo chiese fan show avevo visto le rocce che secondo lei assomigliavano un drago e mago merlino e ho l'impressione che lei abbia notato un sacco di cose mentre stavamo venendo qui esclamò fan show e noi che pensavamo che lei fosse piuttosto assente avevo mal di mare disse padre brown semplicemente mi sentivo un modo orribile ma sentirsi in modo orribile non significa non vedere le cose e chiuse gli occhi pensa che la maggior parte degli uomini le avrebbe viste chiese flambò non ricevette però nessuna risposta padre brown si era addormentato la saggezza di padre brown capitolo 8 la maledizione di pendragon grazie a tutti Grazie a tutti.